E' grande successo di pubblico al Teatro Cavour di Imperia, cambiamo argomento, la serata di beneficenza in favore della Onlus sorridi con Pietro in concomitanza con la dodicesima edizione della Lira Battistiana, un riconoscimento che da anni viene assegnato a una figura del panorama musicale italiano legato alla figura di Lucio Battisti, quest'anno andato al batterista di Adriano Celentano Gianni Dallaglio. La serata ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi per l'allestimento di una camera all'interno del centro residenziale pediatrico per la terapia palliativa e per portare avanti il progetto Diamo Qualità alla Vita, è stato riconosciuto dall'ASL1 e dall'Istituto Gaslini di Genova che consiste proprio nel formare dell'equipe di specialisti, pediatri, infermieri, fisioterapisti, psicologi che si occuperanno di seguire i malati terminali sino all'età dei 17 anni.